Bari, capitale dello sport universitario, stato dell'arte e prospettive. L'università incontra gli studenti atleti, un'iniziativa che ha voluto rinsaldare il rapporto tra sport e studio, incrementando il dialogo e il confronto con gli studenti tra prospettive ed esigenze. Oggi è una giornata importante perché è la prima giornata dello sport universitario, forse anche a livello nazionale. E' importante perché finalmente come CUS stiamo riuscendo a portare molti studenti del nostro Ateneo a vincere titoli italiani in varie discipline. La prospettiva che abbiamo è quella di incrementare quanto più possibile queste medaglie. Oggi siamo qui a sentire dei ragazzi qual è la loro idea. Finora abbiamo fatto una programmazione molto basata su quelle che erano le linee politiche dell'università. Adesso dopo un anno ci mettiamo in discussione. Siamo qui intorno a un tavolo con i ragazzi, dai campioni come Domenico Montrone ed Emanuele Fiume fino ai ragazzi che svolgono l'attività per il CUS e che quindi hanno un livello regionale e vogliamo sentir da loro cosa possiamo fare per migliorarci. Un incontro svoltosi all'interno del Centro Universitario Sportivo di Bari organizzato dalla Università degli Studi di Bari Aldomoro in collaborazione con il CUSBARI. Dal mese di maggio dello scorso anno l'Università del Capoluogo Pugliese ha intrapreso un percorso che vuole accogliere e formare atleti di interesse nazionale e internazionale Bari quindi che si propone quale Ateneo dei Grandi. Daciò la presenza del campione europeo e campione italiano di canotaggio, Domenico Montrone delle Fiamme Giale nonché medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Rio 2016 ed Emanuele Fiume bronzo agli europei e campione italiano di canottaggio, entrambi studenti atleti baresi. Il nostro livello sportivo richiede tantissimo impegno quindi coniugare sport e studio diventa quasi impossibile. Hai bisogno di tempi un po' più lunghi per concentrarti meglio sulla vita scolastica, sulla vita universitaria quindi diciamo che le energie mentali che si sprecano per concentrarsi sullo studio sono veramente tante. Il nostro sport richiede moltissimo impegno quindi diciamo che è abbastanza difficile coniugarlo e quando gli altri diciamo vanno a divertirsi noi dedichiamo il nostro tempo libero allo studio.